Quiz sul calcio. Indovina chi ha vinto il campionato. Livello facile. Primo campionato. Anno 2017-2018. Juventus. Secondo campionato. Anno 2006-2007. Inter. Se hai indovinato le prime due lascia un like. Livello medio. Terzo campionato. Anno 2000-2001. Roma. Quarto campionato. Anno 1995-96. Milan. Condividi questo video con uno zio, genitore o amico che pensa di conoscere tutto sul calcio. Livello difficile. Quinto campionato. Anno 1989-90. Napoli. Sesto campionato. Anno 1990-91. Sampdoria. Livello estremo. Lascia il risultato nei commenti. Ultimo campionato. Anno 1948-49. Torino. 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 Torino.